Va bene, allora, intanto doppio ringraziamento a Roy Menarini che sono molto contento di avere qui, siamo amici da una vita, abbiamo studiato nella stessa università, ci siamo formati alla stessa scuola e abbiamo anche curato dei libri insieme, quindi è un particolare piacere per me averlo qui. E un ringraziamento anche alla nostra platea che oggi è reduce da una proiezione e due ore di lezione, quindi vanno apprezzati per la loro costanza. Dunque, cominciamo col dire che Roy Menarini ha scritto questo libro in parallelo con un altro che ha un titolo simile, giusto? Identico tranne la parola americano che diventa italiano. Quindi c'è anche un libro che lui ha scritto sugli ultimi dieci anni del cinema italiano, ma io ho pensato bene, visto che oggi per tutta Reggio si festeggia l'unità d'Italia, di snobbare il libro sul cinema italiano e presentare quello sul cinema americano. A parte questo e a parte gli scherzi, è un libro che raccoglie una serie di riflessioni, di spunti figlie di una sua passione, di una sua competenza per il cinema americano, che si traduce anche in un'attività critica, critico per il Corriere della Sera della sezione Bologna, che lo porta a visionare un considerevole numero di film, almeno due o tre alla settimana, quattro alla settimana. Ora, per quanto mi riguarda, è un libro molto bello, io l'ho letto anche con un particolare interesse perché insieme abbiamo curato un libro che si chiamava Hollywood 2000, in cui si faceva il punto sul cinema hollywoodiano fino al 2000, quindi questo rappresenta in qualche modo la prosecuzione di quel libro dove noi eravamo curatore, avevamo chiesto a una serie di amici con saggisti e critici di scrivere sul cinema americano alle soglie del terzo millennio. Innanzitutto vorrei che tu ci parlassi della prospettiva sociale di questo film. A pagina 70 c'è scritto a chiare lettere, cito, quella che avete tra le mani non è un'opera di storiografia, bisogna un testo di ragionamento critico e teorico sul cinema americano. Partiamo da questo, cioè dal taglio che hai voluto dare al libro. Sì, ti ringrazio innanzitutto per l'invito e per l'occasione e come dicevi tu, l'avrei detto anche io, il volume parte proprio da quella esperienza che abbiamo fatto insieme e quindi ho voluto insomma cercare di ragionare dieci anni dopo sul cinema americano, anche perché, arrivo comunque subito a rispondere alla tua domanda, anche perché quel decennio su cui ragionavamo e questo decennio che si è appena concluso sono molto differenti tra di loro, non sono l'uno la consecuzione dell'altro semplicemente dal punto di vista storico per l'appunto. Quello degli anni 90 era un cinema che si stagliava su un orizzonte che tutti definivano della postmodernità, di una crescita tutto sommato stabile, di un orizzonte privo di grandissimi conflitti e dal 2001, sappiamo tutti quello che è successo, l'11 settembre è stato un concatenarsi di tragedie, di attentati, di guerre, di crisi economiche, di minacce, ormai non la ricordiamo più, ma la psicosi della pandemia solo un anno fa sembrava attanagliare le nostre notti, ora non raccontiamo nemmeno quello che accade in questi giorni, insomma, quello che sembrava un mondo molto tranquillo in cui ci si preoccupava quasi esclusivamente del rapporto tra il presidente degli Stati Uniti e una sua stagista in tutto il mondo improvvisamente finisce in uno scontro perenne, di cui l'America è il fulcro, come l'è già capitato altre volte nella storia del cinema. Quindi, come dire, secondo me intanto valeva la pena ragionare questa volta, sì, storicamente su questo decennio, ma non è un'opera di storiografia perché sarebbe stato inutile fare un manuale di dieci anni del cinema americano cominciando a scrivere nel 2001 è successo questo, poi nel 2002, poi nel 2003 e così via. Il punto di partenza del mio volume è un altro, cioè che il cinema americano non possa in alcun modo essere considerato neutrale rispetto a tutti questi avvenimenti e che abbia assorbito in maniera diretta e indiretta un periodo di grande densità di avvenimenti, di tensioni sociali, culturali, che poi eventualmente citiamo una per una. Quindi l'idea era di raggruppare attraverso dieci, io le ho chiamate idee, ma potevano essere anche mappe, potevano essere dieci percorsi, dieci, come dire, dieci chiavi di ingresso e così via, dieci percorsi orizzontali in questo decennio che potessero mettere in luce appunto quello che lega il cinema americano, il suo immaginario, alla cultura e alla società statunitense, ma in qualche modo non solo statunitense, oso dire occidentale, visto che per quanto ci si trovi di fronte alla globalizzazione anche dei film, la produzione americana continua ad essere cinematografica e televisiva, quella con cui bene o male ci confrontiamo quanto a temi dell'immaginario per l'appunto. Quindi cercare di fare non, spero almeno, la sociologia spicciola, come si suol dire, ma cercare proprio di enucleare una serie di temi, di nodi, come altri libri hanno fatto in passato, che sono esempi illustri verso i quali non posso che avere un rapporto di modello, ripeto, libri che hanno lavorato su un periodo della storia americana, quello del cinema dal Vietnam a Reagan, per citarne uno famoso, gli studi di Corrigan, di Robin Wood, gli studi anche europei che so io sulla Repubblica di Weimar e così via. Credo che quel periodo che dall'11 settembre porta a Obama, per intenderci, all'elezione di Obama, sia un periodo irripetibile, cioè sia un periodo che ha visto un tale sconvolgimento in pochi anni del territorio statunitense e in generale dell'Occidente, quali se ne verificano pochi nella storia del cinema. Ecco perché dico decidere sul cinema americano in questo periodo non significa che ogni anno questo libro dovrebbe essere aggiornato, perché io mi fermo lì in qualche modo. Penso che questo sia un periodo chiuso nel quale il cinema americano abbia assunto certe caratteristiche e va studiato attraverso delle griglie di interpretazione e non in maniera storiografica anno per anno. Questa è una linea che in qualche modo vorrei costituire su un filo rosso dei vari incontri che avrò e cioè, ripeterò, ritornerà fuori la questione sicuramente sia quando presenteremo il libro di Bocchi su Woody Allen che quando presenteremo il libro sulla fotografia. C'è la questione della periodizzazione, di cui abbiamo parlato anche con i miei studenti perché come tu sai meglio di me la nuova Hollywood pone problemi di periodizzazione non indifferente quando farlo iniziare, quando finirla, eccetera, eccetera. Ora, qua abbiamo una periodizzazione in qualche modo bella e pronta, segnata da due eventi epocali, cioè da una parte l'11 settembre e dall'altra l'elezione di Obama che tracciano i confini e perimetrano la cosa. Come hai lavorato alla costruzione concettuale del libro da un punto di vista metodologico? Cioè, quali film sono più da una parte e quali film stanno più dall'altra? Beh, dunque, innanzitutto ho, come dire, ho cercato di capire quali fossero i film o quantomeno i gruppi di film che sembravano essere più interessanti da questo punto di vista. Detto che però è vedere i film che mi ha portato questa idea, non il contrario. Quindi, nel corso degli anni, mi sembrava di aver visto una serie di film molto diversi da quelli del cinema americano, anche solo del decennio precedente. Mi sembrava, cioè, che il cinema americano avesse ripreso una sua densità, delle forme di polarizzazione, che in qualche modo, come dire, non ci fosse, una produzione cinematografica che rappresentava un'identità certa, ma che anzi rappresentasse dell'identità molto conflittuale, un cinema particolarmente conflittuale. E del resto, ripeto, i due presidenti americani che si sono dati il cambio, Bush e Obama, non potrebbero essere più diversi in tutti i sensi. Sono due polarizzazioni totali, non sono due, come dire, due personalità politiche che bene o male si somigliano in qualche modo. C'è proprio, quindi, una conflittualità sociale e culturale molto forte, come non se ne vedeva, credo, dall'epoca del Vietnam, per l'appunto. Quindi, concettualmente, significava tentare di capire quali film potevano reagire meglio a queste forme di interrogazione da parte mia. E, come spesso accade, poi mi sono accorto che ci sono un largo numero di film che trattano apertamente di questa conflittualità, di questi argomenti, delle guerre in atto, dell'11 settembre, lo dicono apertamente. Ma c'è una larga parte di film che va, invece, appunto, organizzata e studiata in un'altra maniera. E, come spesso accade, si tratta di film popolari, se ancora questo termine ha un qualche senso. Cioè, i film che non sembrano candidarsi apertamente ad essere fruiti in maniera analitica, ad essere letti nelle maniere, anche in questo, rifacendomi, quindi, a una tradizione di studi che, certo, non invento io. Però, ecco, questi film, questi gruppi di film che, alle volte, corrispondono a dei generi cinematografici molto evidenti, altre volte, invece, vanno un pochino da parte del critico e dello studioso, messi vicini l'uno all'altro, sembrano, appunto, fare al caso nostro. Per esempio, per fare degli esempi concreti, in uno dei capitoli che è quello dei generi cinematografici, dedico due capitoli ai generi cinematografici, c'è una parte ampiamente dedicata al cinema horror, perché il cinema horror è un genere cinematografico, ma può essere trattato anche come uno dei generi che, evidentemente, sono un territorio nel quale si elaborano delle questioni molto serie anche dell'identità americana. Non so se vedo, soprattutto, volti femminili in quest'aula e di solito non sono quelli più appassionati di horror, anche se le cose stanno cambiando. Non so se qualcuno conosce un po' gli horror degli ultimi anni. Però l'horror degli ultimi anni ha fatto un salto in avanti, chiamiamolo così, per quanto riguarda la rappresentazione della violenta estrema, cioè l'horror estremo, che era impensabile solo fino a pochi anni prima del 2001. Questo non significa semplicemente più guerra, più violenta, quindi più horror prodotti. Però, se andiamo a guardare un po' la storia del cinema americano, ci accorgiamo, appunto, che in epoche particolarmente conflittuali c'è una larga produzione di horror, anche horror scioccanti, e in epoche, invece, meno conflittuali c'è una larga produzione di fantascienza. Questo equilibrio instabile tra due generi che quasi mai sono forti insieme nel cinema americano, insomma, pone degli interrogativi. Ecco un esempio, ho cercato nel libro, poi semmai approfondiamo, di cercare di capire a che cosa risponderebbe, quindi, questa offerta di horror così estremo. E questo vale anche per tanti generi, ricordandoci che anche i film apparentemente più lontani, più, come dire, anche meno nobili dal punto di vista della loro nascita, possono essere studiati da questo punto di vista. Non è una questione di merito o di bontà del film, che pure affronto, ma in molti casi, appunto, la lettura più sintomatica. Ecco, rimaniamo sulla questione dell'horror ancora un secondo, cioè il decennio che tu prendi in esame è anche il decennio in cui vengono rifatti. Tutta una serie di horror che hanno fatto epoca, Halloween, venerdì 13, non aprite quella porta, quindi tutti i grandi horror degli anni 70, che Robin Wood nel suo libro considerava assolutamente sintomatici dell'epoca post-Vietnam e pre-Reagan, sono stati rifatti negli ultimi dieci anni con alterne fortune, esiti discutibili o meno. Ecco, non è un caso, forse, no? Che quella e questa sia l'epoca della ipertrofia dell'horror, ma però non è neanche un caso, secondo me, vorrei avere un tuo parere, che questa nuova esplosione dell'horror si componga quasi solo di rifacimenti, in fondo, no? Sì, rifacimenti, seguiti o reboot, come si chiamano oggi. Sì, in effetti, questa è una delle cose su cui interrogarsi, anche perché, vedete, come dire, questo è un ottimo terreno di elaborazione, il cinema horror è già da tempo che rielabora se stesso, ma qual è la differenza, per esempio, per citare dei film degli anni 90, tra la saga di Scream, di cui ora si vedrà poi un ulteriore capitolo, e gli horror che tu hai citato, i remake che tu hai citato. La saga di Scream entrava in un periodo, ripeto, di non conflittualità americana e sembrava l'horror occuparsi esclusivamente di se stesso. Voi sapete, pensa, come funziona Scream, c'è un maniaco che fa delle domande di cinema, chi non sa rispondere viene ucciso, quindi sembravano il quiz, in qualche modo... Io mi ispiro al maniaco, mi ha sapiato. È il mio riferimento. E quindi, come dire, questo significa che l'horror giocava con se stesso, il cinema gioca con se stesso, perché non sembra avere più un mondo con cui parlare. La faccio semplice, è un po' uno slogan, però più o meno andava così. Nel cinema contemporaneo ancora si torna, il cinema parla di se stesso, perché si prendono vecchi film e si rifanno. Però in questo caso i remake assumono tutta un'altra dimensione. Innanzitutto si va a cercare proprio quel cinema, cioè si fanno un numero enorme di remake, non di film degli anni 50 o 60 o 80, ma soprattutto del periodo degli anni 70, non tutti, ma soprattutto proprio quel cinema horror che veniva considerato, come dire, più politico, tra virgolette, cioè sembrava un cinema che esprimeva, in qualche modo apertamente, in qualche modo inconsciamente, degli elementi di grande dissidio interni alla società, di grande angoscia all'interno della comunità statunitense. Si vanno a cercare proprio quei film e io ipotizzo che quei film siano quel tipo di storie, in particolare la violenza interna al territorio americano, siano storie che rappresentano appunto un dissidio, una tensione nella società americana e che tornino buone negli anni 2000. In alcuni casi questi film sono stati fatti appositamente. Cioè ho la sensazione che alcuni di questi film, come l'alba dei morti viventi, per citarne uno, che è il remake del secondo degli zombie di Romero, fatto da Zack Snyder, sia un film che è stato rifatto apposta per portarsi dietro, non solo testualmente il film, ma anche tutti i discorsi intorno al film, tutto quello di cui quel film è diventato simbolo. Salvo che poi, non io per primo, ma vari critici hanno notato che mentre, ad esempio, quel cinema horror degli anni 70 aveva un lato democratico, antirepubblicano, piuttosto forte, antimilitarista, questo cinema horror in particolare, ho citato questo, sembrano assumere invece connotazioni più belliciste e più, insomma, e più governative, tra virgolette. Quindi, interrogarsi sul perché si fanno certi film e su cosa sono al loro interno sembra particolarmente interessante, interrogare i personaggi, le storie, come si svolgono, quali caratteristiche assumono. Al di là, ripeto, molto spesso poi dell'effettivo valore del film. In questi film e anche nei pochi prototipi horror che sono stati fatti negli anni 2000 al di fuori dei remake, c'è questa ossessione, appunto, ad esempio, per la tortura. Guarda caso, in epoca di Abu Ghraib, Guantanamo e così via, escono Hostel, Hostel 2, Saw, a proposito di enigmisti psicopatici, altro che quello di Scream, quello di Saw, è ancora più crudele e va avanti ormai per sei capitoli o sette, sette forse era l'ultimo capitolo, esprimendo drammaticamente, mettiamola così, queste forme di interrogatorio, di interrogazione coercitiva che sono andate per la maggiore, ahimè, negli scorsi anni. Ecco, prendendo spunto da un paio di horror, e mi riferisco in particolare a Venerdì 13 e ad Halloween di Rob Zombie, ci troviamo di fronte ad un fenomeno significativo che tu interpreti secondo me in maniera molto acuta, quella del reboot o del ritorno all'origine. Vogliamo intanto spiegare che cos'è il reboot e qual è l'interpretazione che tu dai che mi sembra particolarmente convincente, perché il reboot è un fenomeno degli ultimi dieci anni, cioè in un'epoca in cui si scrivono, si sovrascrivono e si perscrivono testi precedenti, qualcosa di nuovo, veramente, il cinema hollywoodiano l'ha partorito ed è questa cosa qui che adesso... Sì, in effetti, sì, rispetto... Allora, il reboot è chiaramente anch'essa una categoria che sta al metà tra il pubblicitario e l'industriale, però poi è abbastante interessante, il reboot sarebbe cioè la ripartenza da capo, cioè mentre in altri casi si fa semplicemente un remake o si fa un numero 6, 7, 8, le serie vengono fatte ripartire da capo, cioè l'idea è mitologia zero, no? Si riparte, si riparte, appunto venerdì 13 è un caso, Halloween è un altro caso, Nightmare della scorsa estate è stato un altro caso, a volte si fanno dei reboot anche recentissimi, che... Star Trek, di cui parlo e cui appunto volevo poi anche arrivare, l'idea appunto di tagliare il più possibile il cordone umbilicale col passato per ripartire da capo. Ora, detto che non dimentichiamo che si tratta di caratteristiche anche merceologiche, che quindi, come dire, gli studi di marketing dell'industria non possono mai essere considerati indipendenti da questi fenomeni, è una sorta di intrecciarsi di motivi che stanno tra il sociale, il culturale, l'industriale, abbiamo saputo ormai da anni che tutti quanti sono intersecati tra di loro. Però, mi sembra curioso che proprio il reboot possa essere così frequentato in questi anni. E allora, anche lì, non cercando di gettarmi in interpretazioni ardite, ardite un po' lo sono, ma guardando anche un po' ai testi che il post 11 settembre ha prodotto all'interno della filosofia, all'interno della sociologia e così via, ci si accorge che molto si è discusso ad esempio del fatto di questo trauma dell'11 settembre, soprattutto l'immagine, questa icona tragica delle torri che crollano e questa idea che non si possa tornare indietro, questa idea che non si riesca in alcun modo a fare un'assoluta un'assoluta un'assoluto flashback che possa rimettere in piedi le torri anche se il replay della tragedia è stato ossessivo nei mass media, nei telegiornali e così via, queste torri che tornavano in piedi ricrollavano in piedi ricrollavano e così via facendo parlare anche molti mediologi di questa situazione. Ecco, forse il reboot è una sorta di antidoto a questa cosa, la sensazione che ci sia stato un trauma inenarrabile nel senso proprio letterale del termine cioè non narrabile e che quindi in qualche modo si riparte da capo molti di questi dei film anche dei film non reboot ma in qualche modo dei rifacimenti hanno questa questa cosa di ripartire assolutamente da capo pensate a Io sono leggenda dove alla fine dopo le tragedie più in mani la ragazza almeno nel finale che abbiamo visto in sala giunge nella nuova comunità con una campana che suona e si riparte da capo con un nuovo nucleo sociale ma tantissimi potrebbero essere gli esempi di questo tipo c'è un'ansia della ripartenta un'ansia della rifondazione comunitaria culturale sociale che mi sembra percepibile mi sembra davvero lì in cui anche la logica a cui anche la logica massiccia del reboot mi sembra possa a cui possa partecipare ripeto non siamo ingenui è ovvio che è l'industria a guidare per motivi di profitto molte di queste strategie commerciali dei grandi film americani però tuttavia queste stesse caratteristiche rispondono poi a una serie di negoziazioni con le richieste del pubblico una sorta di immaginario trasversale per cui penso che sia abbastanza credibile come ipotesi sì credo che anche si siano invertite delle tendenze di richiamo del pubblico cioè i sequel si rivolgevano essenzialmente secondo me un pubblico che aveva visto le puntate precedenti e quindi faceva leva su una competenza intertestuale derivata dalla visione delle puntate precedenti di una saga il reboot invece vuol far venire la voglia di vedere le puntate precedenti facendo finta però che siano successive in qualche modo cioè mettendo lo spettatore a contatto con la genealogia della saga mettiamo star trek piuttosto che halloween facendoli vedere quello che è successo all'inizio gli si fa venire voglia di vedere gli altri episodi che sono cronologicamente precedenti ma diegetticamente successivi in qualche modo è un re inglobante sì cioè rimetti in circolo una competenza che forse il pubblico non ha più ma che poi in qualche maniera di cui puoi suscitare la voglia ecco senti un'altra questione che mi sembra importante è quella del blockbuster cioè tu a un certo punto parli di una sorta di ideologia elastica del blockbuster lo definisci politicamente flessibile poroso maneggiabile e discutibile ecco volevo capire se sino a quali blockbuster soprattutto pensavi e se questa questione nella sua congenita flessibilità ti ha determinato qualche problema sul piano dell'ermeneutica ma in verità sì e no nel senso che quella sì mi sembra una scelta piuttosto chiara da vari punti di vista ripeto periodo di forte polarizzazione periodo nel quale c'è un cinema democratico magari un po' silente nei primissimi tempi dopo l'11 settembre dove c'è un patriottismo diffuso dove è difficile mettere in crisi o criticare le verità ufficiali ma di lì in poi c'è appunto un cinema un po' liberal di vecchio stampo che guarda anche agli anni 70 che che quindi Paul Heggis e tanti altri che mettono in crisi le verità ufficiali e i film critici nei confronti dell'Iraq eccetera quindi si crea un pensiero cinematografico di senso nei confronti del governo Bush delle politiche e così via contemporaneamente c'è un cinema che potremmo identificare come un cinema abbastanza bellicista non è non credo che sia un caso che sia pure in maniera molto nostalgica un pochino decostruita un pochino meno meno cruda e meno rozza tornino tutti gli eroi degli anni 80 reganiani in questi anni torna Stallone con i suoi Rambo e Rocky torna Bruce Willis con il suo Die Hard tornano in tanti come se ci fosse un vuoto virile nel posto 17 torna Conan torna Conan uscite allora abbiamo due due cinema che sono appunto il blockbuster però non può o non facilmente può consegnarsi apertamente a un pensiero cinematografico che in qualche modo echeggia non dico che sia di parte ma echeggia un pensiero diffuso da una delle due parti della società quindi il blockbuster mi sembra che metta in scena molto spesso cose magari lontane saghe tolkieniane guerre dell'antico passato figure della narrativa popolare ma che sia quasi impossibile poi non vedere intraluce tutta una serie di tensioni del contemporaneo tra l'altro la densità e in qualche modo la forza degli eventi contemporanei agiscono anche sul pubblico cioè il pubblico in qualche modo è più portato a vedere in filigrana dei significati che magari non ci sono perché è il momento nel quale è molto sollecitato insomma è particolarmente sollecitato da questo punto di vista e certo poi quando si fanno dei film che mettono in scena lo scontro tra civiltà penso alle crociate di Ridley Scott per dirne uno o ai 300 di Zack Snyder è ovvio che ti consegni proprio in mano a queste discussioni politico-culturali di cui stavamo parlando ecco la mia sensazione è che in molti casi i blockbuster cioè i film di maggior incasso tentino di per dirla volgarmente di tirare un colpo al cerchio e una la botte nel senso che tentano in qualche modo di accontentare un po' tutti i diversi tipi di pubblici di creare discussione e così via un caso è proprio le crociate di Ridley Scott insomma dove l'atteggiamento tra epica perché comunque c'è un epica della battaglia tra cristiani e arabi che quindi echeggia un pochino la retorica che all'epoca Bush no biblista di Bush dello sconto tra le civiltà e contemporaneamente però la correttetta politica nella quale gli arabi insomma non sono tutti dei combattenti assassini ma subiscono un attacco tenta di tenere in piedi un po' tutto quanto e quindi mi sembra questa funzione ideologica elastica che in fondo possiamo vedere anche nel Signore degli Anelli nei nuovi Star Wars di George Lucas e così via sia piuttosto chiara non è un caso che se voi fate come io ho fatto una ricerca critica delle letture critiche di questi film voi li trovate interpretati in maniera esattamente opposta secondo del giornale che comprate il manifesto dall'estrema sinistra troverà che questi film sono dei manifesti marxisti travestiti da film hollywoodiano altrove troverete il contrario sul giornale libero foglio e così via e questo mi sembra evidente e ciò trova la summa assoluta in Avatar Avatar è veramente il film che non a caso è stato attaccato brutalmente mi viene di dire dal filosofo Slavoj Zizek uno dei massimi rappresentanti del neolacanesimo marxista quindi una persona sicuramente molto a sinistra che vede in Avatar un film che getta l'amo del no global dell'essere contro le multinazionali contro gli eserciti per la biologia del pianeta per Pandora come pianeta sostenibile ecosostenibile eccetera eccetera ma in verità secondo Zizek è anche un film della 20th Century Fox di Mardok cioè del conglomerato mediale più a destra e anti-Obamiano che esiste al mondo che occupa massicciamente le sale e fa da ariete per una nuova stagione del 3D con il merchandising più capitalista che esista insomma tutto il contrario di tutto per accontentare narrativamente un certo tipo di pensiero anticapitalista e contemporaneamente essere invece proprio la punta di diamante della Hollywood più ricca che esista sì questo è sicuramente un problema del cinema contemporaneo nel senso che se vuole essere di massa deve essere compromesso da un punto di vista economico se è compromesso da un punto di vista economico qualsiasi tipo di ideologia di cui si faccia portatrice il portatore è in qualche modo contraddetta dal sistema che lo produce lo stesso meccanismo si era prodotto con Wall-E l'avevate visto Wall-E quello della Pixar che è un film decisamente ecologista ma è assolutamente ecologista poi però i pupazzetti di Wall-E li ritrovavi da McDonald's e quindi faceva rientrare dalla finestra quello che faceva uscire dalla porta questo è il primo problema il secondo problema è il problema della rappresentazione della violenza io credo che corra sotterraneo nel tuo libro un tema sul quale prima o poi vorrò dedicare un corso cioè quando come e perché la rappresentazione della violenza è apologetica della violenza e quando come perché la rappresentazione della violenza è invece una forma di condanna della violenza stessa penso a 300 di Zack Snyder che è stato interpretato in maniera diametralmente opposta cioè che cos'è 300 l'avete visto tutti qua più o meno cioè come dobbiamo metterci d'accordo su questo film è un film reazionario perché dipinge come dire fa l'apologia della sopraffazione del diverso e i diversi sono anche sempre molto poco gradevoli dal punto di vista dell'aspetto fisico oppure essendo tratto da un fumetto e adottando una chiave di estremizzazione stilizzata nella rappresentazione è una critica di quel mondo che per alcuni invece viene nel film celebrato e difeso ecco vorrei capire sino a che punto i riferimenti che tu a un certo punto dici una cosa secondo me se la trovo piuttosto interessante cioè parli di buon senso vediamo un po' se riesco a rintracciarla credo pagina 37 sì il terreno più eccitante degli studi culturali individuare i caratteri sociali e culturali presenti tra le pieghe spesso nascoste di una produzione testuale e distinguere con le armi della metodologia di indagine del semplice buon senso ciò che può risultare credibile da ciò che invece pare campato in aria ecco sino a che punto hai dovuto utilizzare questi meccanismi parecchio nel senso che in effetti queste metodologie che si usano per lavorare sul cinema popolare sono quelle appunto provenienti da un'area che si chiama studi culturali che però ha un termine ombrello che contiene un po' di tutto diciamo che usa in maniera light mettiamola così più critica in questo in questo volume e che appunto è questa cioè nel momento in cui devi riuscire a evidenziare una serie di nodi magari abbastanza nascosti culturali sociali psicologici di catene nodi di film di eventi di situazioni di discorsi sociali che sono quelli poi più difficili da identificare e interpretarli ovviamente non c'è nulla di oggettivo nulla di scientifico nel senso appunto delle scente dure che noi possiamo utilizzare se non appunto la capacità della metodologia di analizzare se stesse di capire dove funziona e dove no cioè una sorta di qualcuno la chiama euristica per cui cosa succede di fronte a questi film però quello che volevo dire io è che questo metodo è un approccio che si può fare comunque sempre in ogni caso quello che che alza la temperatura rispetto a questi blockbuster degli anni 2000 è che si danno essi stessi per primi in questo modo cioè per farvi un esempio noi dobbiamo interrogare qualunque elemento anche il lancio di un film anche il modo in cui viene proposto agli spettatori allora i 300 mi ricordo perfettamente quando esce in Italia dopo qualche tempo da cui è uscito in America si porta già dietro a brevissima distanza e il mio sospetto è che la pubblicità intorno al film essa stessa ha previsto in qualche modo la ricezione ideologizzata del film si porta dietro le polemiche intorno alle possibili rappresentazioni della violenza e dei combattenti in campo cioè si dice guardate il film che state per vedere è già stato interpretato metaforicamente come se gli spartani fossero gli americani e i nemici fossero appunto iraccheni in generale medio orientali e quindi l'eroismo dell'americano che è in un luogo ostile e che in pochi contro tanti riesce a sconfiggere ecco mi ha molto colpito quella cosa c'è ancora prima che uscisse il film viene portata non il film ha incassato tanto non il film straordinario non 10 milioni di persone si sono divertite ma ha creato un sacco di polemiche questa cosa parte da un film precisamente che è La passione di Cristo di Mel Gibson che ovviamente sollecitava poi anche in Italia in particolare il pensiero religioso e quindi ha aperto come ben sapete una quantità spaventosa di letture conflittuali però ecco quando lo stesso lancio del film batte e ribatte su quello che in verità lo studioso dovrebbe fare cioè l'interpretazione un po' culturale sociale politica dei film questo sorprende quindi la temperatura è già innalzata di per sé quindi questo lo distingue dagli altri blockbuster su cui comunque questo tipo di approccio può esercitarsi aggiungiamo poi e lo ripeto che questi film ecco qual è ad esempio un metodo buono un metodo buono è non limitarsi a questa semplice attribuzione di ruoli cioè uno si mette di fronte al film e dice beh come si comporta questo personaggio mi sembra si comporti metaforicamente come uno di destra e quell'altro uno di sinistra sarebbe ben triste e ben poco produttiva la cosa bisogna andare molto più nel profondo evidentemente capire elementi narrativi elementi soggiacenti elementi di proposta di società e di mondo che sono evidenti nel film e non dimenticando un aspetto enorme che è tutto l'aspetto stilistico cioè non è un caso che Leonardo parlasse poco fa della rappresentazione della violenza la rappresentazione lo stile l'iconografia ormai tutti sanno che come dire anche questo elemento è del tutto parte di questi di questi temi che noi vogliamo eviscerare mentre molta molti studi culturali insistono quasi esclusivamente sui contenuti per intenderci quella che il nostro compianto critico Vincenzo Buccheri chiamano nel suo ultimo libro socio-stilistica me interessa molto c'è una capacità dello stile di portare con sé appunto degli elementi sociologici allora i 300 si può discutere è una enfatizzazione della violenza o è una critica cosa fanno gli spartani è un problema di addominali scolpiti o è qualcosa di più è forse qualcosa di più allora mi è difficile immaginare che questo film sia una critica alla violenza nel momento che gli aspetti stilistici iconografici e ritmici del film portano a una tale enfasi e a una tale piacere del testo e piacere del conflitto e della violenza perché mi sembra che le mosse stilistico-iconografiche del film vadano in una direzione molto precisa che è quella dell'esaltazione sì infatti è stato più letto come un film di destra come un film di sinistra senti un'altra delle questioni chiave che affronti nel tuo libro e non poteva essere altrimenti in epoca visto che il decennio in questione è anche sul piano della narratività hollywoodiana il decennio delle serie televisive no? il rapporto con la serialità tu a un certo punto scrivi si può affermare che hollywood cerchi da molto tempo le strade per controbattere altri sistemi domestici di serializzazione imitando ciò che di più attraente possiedono la capacità di costruire mondi narrativi affiancati a quelli dell'esistenza quotidiana e quindi l'abilità nell'esorcizzare l'idea stessa di fine morte che il testo concluso suggerisce vogliamo parlare di questo cioè sino a che punto il cinema dal 2001 al 2010 non è solo il cinema post 11 settembre ma è anche il cinema dell'epoca dei Lost degli Heroes dei Boardwalk Empire eccetera eccetera guarda ribalterei addirittura la tua affermazione cioè fino a che punto è il cinema a parlarci del post 11 settembre quanto piuttosto sono le serie televisive a parlarcene credo che sia io appunto mi occupo di cinema studio il cinema e quindi ho voluto dedicare un libro al cinema americano pur tuttavia non potevo esimermi dal dire che forse chi ha detto in maniera un po' da slogan che il vero cinema americano degli anni 2000 e forse anche da qualche anno prima sono le serie televisive non ha tutti i torti nel senso che un po' c'è stata la grande capacità tecnica del linguaggio televisivo di rinnovarsi a tal punto da essere forse più del cinema americano un linguaggio di sperimentazione e di innovazione e dall'altra parte è forse proprio per questo suo intervento così puntuale così continuo settimana dopo settimana che la serialità ha potuto introdurre più rapidamente e come dire no rielaborare più rapidamente tutte queste tensioni di cui stiamo parlando e ci sono delle serie da questo punto di vista mi sembra piuttosto evidenti Lost ormai ha una un'enciclopedia talmente enorme una bibliografia critica più lunga di Lost e sul web poi non se ne parli neppure quindi nessun significato che possiamo attribuire a Lost non è stato già come dire esperito dalla letteratura su Lost ma 24 ma tutte le serie che penso conosciate americane che in un modo o in un altro chi inventa sul piano formale chi inventa sul piano narrativo chi inventa sul piano stilistico l'innalzamento dei budget delle case televisive su questi queste serie tv le rendono di fatto insomma appetibili come al cinema tutti i generi di riferimento sono stati più o meno rappresentati e la storia non sta finendo magari sono finite serie storiche però ecco mi sembra che se parliamo di post 11 settembre la serialità ecco sia decisiva la serialità è veramente la gallina delle uova d'oro in questi anni o lo è stato almeno negli anni immediatamente successivi proprio perché lo spettatore finalmente si sente anche autorizzato a consumare serialità autorizzato culturalmente proprio perché è nata anche anche accademicamente insomma una nobilitazione di questi testi che si che poi si traduce anche in una consapevolezza sociale più diffusa e un po' perché questi testi hanno inaltato di gran lunga la loro qualità il loro valore la loro densità testuale e costituiscono una cosa di cui si parla si discute e così via quindi sono diventati davvero un'avanguardia da questo punto di vista intesa ovviamente non nel senso delle antiche avanguardie per cui la serialità è necessaria la serialità intendo televisiva è necessaria per capire questo questo scenario è necessaria tanto più quando ci accorgiamo poi di come viene aggirato il problema dell'11 settembre del post 11 settembre io spendo molto alcune pagine come ho fatto anche in altre sedi in altri libri sul personaggio un po' chiave di questo periodo che è appunto l'agente Jack Bauer di 24 che è nota per essere una serie di grande innovazione stilistico narrativa perché come sapete ogni stagione racconta solo 24 ore ogni episodio racconta solo un'ora nel tempo cosiddetto reale ma anche perché è una figura a sua volta molto discussa che ricorre alla tortura che è capace di infiniti patimenti che combatte il terrorismo che sembra insomma una figura veramente sovrastorica di questi anni e non è un caso che la serie si sia chiusa nel momento in cui ormai questi legami con quel periodo così conflittuale si stanno lentamente allentando Jack Bauer nell'epoca di Obama non ci stava insomma infatti la serie ha chiuso però guardate un po' ci sono poi altre serie che prendono il testimone fino al 2006 2007 l'11 settembre non poteva nemmeno essere nominato adesso avete una serie televisiva che si chiama Fringe in cui in un mondo parallelo c'è stato anche lì l'attentato dell'11 settembre ma è stato diverso cioè non ha colpito le torri gemelle ma la casa bianca e su questo si gioca una parte della serie Fringe sempre dello stesso creatore di Lost JJ Abrams quindi vedete come uno spettatore beh si trova davvero a osservare settimana dopo settimana offruendola poi sui nuovi metodi di comunicazione di un'elaborazione continua di questo immaginario non solo alcuni film di cui poi si discute per anni ma un'elaborazione continua e e anche all'interno poi della serialità si aprono si aprono altre altre questioni appunto ogni serie ha una discussione amplissima sulle caratteristiche che assume ma sempre in transizione quindi sono davvero oggetti molto eccitanti molto divertenti molto ricchi che sembrano non finire quindi rilanciano anche l'analisi di volta in volta quando mutano cambiano e così via e anche quando le serie poi decadono alle volte nelle ultime stagioni si nascondono degli interessi per lo studioso molto più molto più interessanti e per concludere sulle serie vi faccio un esempio come potrebbe essere quale potrebbe essere una caratteristica che unisce le serie degli anni 2000 almeno molte serie americane degli anni 2000 non credo che sia un caso che le distingue che una una grande linea che è quella della interpretazione cioè ci sono dei personaggi forti dominanti che hanno il potere di interpretare i segni meglio di altri lo scienziato di CSI il dottor House la capacità di lettura dei complotti di Jack la lettura continua del grande garbuglio di Lost cioè il potere in queste serie televisive è in mano al sapiente il quale sapiente cosa fa interpreta continuamente i segni la figura essenziale è House di fronte alla sua lavagna fa semeiotica medica cioè mette lì i sintomi e naturalmente le prime dieci interpretazioni sono sbagliate e solo l'undicesima quella giusta che è la più bizzarra la malattia più bizzarra però direi che House è veramente in assoluto il segno dei tempi è il segno degli anni 2000 cioè la capacità in una situazione di caos è una sensazione di una società frantumata di una situazione di paura percettibile nella società americana dove ci si affida a figure di sapienti che cosa fanno? sanno leggere il caos leggono i segni e danno interpretazioni giuste e non sbagliano quasi mai mi sembra interessante sì e lo stesso vale per CSI no? certo a partire da una serie di tracce di tracce si riconduce questo ad uno scenario che per tentativi successivi di approssimazione partorisce alla fine un'istantanea autentica e vera di quello che è avvenuto e che ha portato alla presenza di un certo cadavere con certe tracce ma sì e c'è l'idea che poi in questo modo quindi puoi dominare ciò che ti sembra totalmente casuale sì no ma anche la funzione rassicurante che hanno questi personaggi di risolvere una situazione e di stabilire con certezza quello che è avvenuto no? cioè in un mondo dominato anche a livello sociale e politico da interpretazioni conflittuali e compresenti l'idea che arrivino queste persone che con una serie di ragionevoli difficoltà ricanducano un semplice corpo e una rida di ipotesi ad un'interpretazione con la I maiuscola attraversata da certezze incontrovertibili di natura scientifica evidentemente è qualcosa che rassicura che rassicura lo spettatore oltre ogni misura non solo rassicura ma ricordiamo anche che personaggi sono personaggi trasgressivi sono personaggi non sono come dire normali eroi a tutto tonno sono personaggi bizzarri a volte cinici a volte crudeli in qualche modo cioè sono personaggi estremamente trasgressivi quindi l'idea in qualche modo è non solo che abbiamo qualcuno cui affidarci ma che esistono personalità in grado di trasgredire una normale concatenazione anche comportamentale perché vedono oltre questo vedere oltre delle serie televisive dei personaggi sapienti come li chiamo io delle serie televisive mi sembra più convincente per esempio dell'idea che ci siano i supereroi a difenderci il cinema supereroistico anche esso si sviluppa tanto negli anni 2000 ma non mi sembra che come dire sia totalmente e assolutamente un cinema quello dei supereroi del post 11 settembre mi sembra più quello dei sapienti ma c'è Nicola Dusi che alta la mano e che saluto intanto salutiamo da esperto di remix e remake e di dottor House ma guarda la cosa mi fa una domanda interessante perché ho appena scritto proprio di questi due film mostrandoli uno di fianco all'altro nel numero di una rivista di Cinergie che uscirà tra poco ma ecco a me sembra che ci siamo già cioè mi sembra che senza dover forzare a tutti i costi la mano però mi sembra che i limiti temporali che do al mio libro siano in qualche modo riconfermati cioè stiamo entrando in un'altra fase del cinema americano l'orroro sta velocemente decadendo l'elemento fantastico sta ritornando in auge il discorso sull'aldilà sta tornando fortemente era stato traumatizzato dall'11 settembre la New Age tutte queste cose sembrano traumatizzate improvvisamente saltano fuori no medium medianicità e così via year after e beautiful sono film da questo punto di vista proprio chiarissimi giocati in maniera differente tra di loro dove ovviamente si è già detto conta di più l'aldiquà che non l'aldilà però intanto cominciano ad allargarsi le maglie del visibile cominciano ad essere reinterrogati elementi molto più immateriali molto meno urgenti di prima secondo me questo rapporto con l'aldilà cosa ci dice ci dice che una nuova ipotesi sociale è possibile che nuove utopie o in qualche modo topie semplicemente sociopolitiche ricominciano ad essere discusse prima si viveva alla giornata c'è la guerra c'è il terrore c'è l'antracce c'è la crisi le case crollano perché le abbiamo pagate con dei subprime che erano carta straccia c'è proprio l'idea che la stabilità non esiste adesso man mano che la stabilità ricomincia che un minimo di promessa di futuro c'è ritornano fuori anche topie molto differenti anche io la leggo così è presto però per dirlo lo scrivo anche nel saggio è molto presto per dirlo credo che il film di Clint Eastwood sia anche un film non è un caso che il primo film della sua pluridecenale carriera in cui c'è una sequenza in cui lui si affida agli effetti speciali sia anche un film nel quale si comincia a fare i conti con la domesticità e la quotidianità dell'idea di morte e quindi con la possibilità che gli individui convivano con l'idea di morte e non la subiscano nessuno da questo punto di vista che è un film avrete letto che hanno levato i rafter dalle sale di Tokyo in questi giorni posso immaginare il perché ovviamente però nello stesso tempo è un film che dà un'apertura come sempre il cinema di Clint Eastwood ad una possibilità di convivere con la catastrofe non di convivere con la possibilità della catastrofe ma di convivere con le conseguenze della catastrofe e quindi metabolizzando il senso di morte e la possibilità di perdere i nostri cari ci sono altre domande? altrimenti se ci sono domande sì, certo professor Vanilco De Luppi ah ecco non ho letto i suoi testi sì, allora guarda sono d'accordo distinguerei come dire due aspetti cioè io nel mio libro sostengo che come dire la funzione metaforica esista e sia anche particolare negli anni 2000 ma che sia particolarmente confusa atomizzata e in qualche modo un po' frantumata cioè nel senso che la mia interpretazione è che in verità il cinema americano di questi anni abbia riassunto una sua densità metaforica ma che non l'abbia che non ci fossero una serie di guide che possono essere autori sceneggiatori coscienza diffusa e così via in grado di costruire una vera interpretazione condivisa per l'appunto quindi in verità sono molti di questi film ti rimandano quello che sta succedendo questo baso un po' la mia idea ma la stragrande maggioranza di questi film appunto sono o a ideologia elastica o confusi dal punto di vista delle proposte proprio di rappresentazione di mondo e rappresentano direttamente questa crisi culturale il cinema d'animazione tu non sbagli a citarlo perché è l'unico in cui si ritrovano scampoli anche di classicità in che senso sono gli unici che sono in grado invece di farlo questo lavoro cioè sembra gli unici in grado di proporre una serie di valori sembra una cosa una parolaccia da dire però in verità io sono sempre stato molto interessato a questa capacità di produrre valori che poi possono essere valori banali valori familisti valori di cui si può discutere che ci piacciono o non ci piacciono però il cinema d'animazione sembra l'unico in grado di proporli limpidamente non retoricamente non propagandisticamente ma limpidamente cioè gli unici nei quali quella classicità americana che comunque faceva trasparire un grande amore verso la democrazia e l'American way of life sembra ritrovare in questi film dopodiché alcuni possono so che c'è ad esempio qualche critico che lamenta una sorta di di mancanza di figure materne nel recente cinema d'animazione nessuno di questi personaggi dal kung fu panda tutti gli altri hanno più le mamme nessuno lo giustifica più narrativamente ci sono solo padri ci sono delle femministe che lavorano su questo ma non sto parlando di questo mi interessa mi interessa ma non sto parlando di questo sono davvero gli unici film in grado di produrre una grande aggregazione anche dal punto di vista dell'amore del pubblico e così via perché lo ripeto forse sono gli unici che fanno quel lavoro che tu dicevi cioè cercano anche di costituire valori condivisi all'interno di una produzione che invece rappresenta una crisi di valori condivisi una crisi culturale e di cui tutti stanno vedendo in qualche modo il lascito anche nell'era Obama molto balbettante come si vede insomma sì al di là delle femministe chiaramente lasciamo le scrivere però penso anche io sono d'accordo che il cinema e l'animazione americana in questo momento è l'avanguardia cioè se diamo delle definizioni di avanguardia cioè livelli di creatività fuori dal normale sul piano tematico narrativo stilistico allora quello che è tecnico quello che si vede nell'animazione hollywoodiano in questo momento non si vede in nessun altro genere nel cinema hollywoodiano basta pensare anche sul problema dell'eroe tu dicevi a un certo punto scrivi giustamente non ci sono più eroi nel cinema hollywoodiano io direi anche quelle poche figure eroiche che raggiungono gli schemi hollywoodiano sono tratteggiate come figure eroiche in crisi basta pensare al terzo Spider-Man rispetto al primo e al secondo il terzo post 11 settembre che è tutto giocato sul fatto che lui non sa se ha voglia tempo e modo di continuare ad essere l'uomo ragno oppure no o il Batman di Nolan o il Batman di Nolan esatto ecco questa cosa qui che ancora una volta nel blockbuster hollywoodiano si vedono e non si vedono cioè hanno tratti di leggibilità ma sono sempre corredati da una certa elusività nel cinema e l'animazione vengono fuori in maniera migliore e più netta basta pensare sul problema della costruzione del cinema hollywoodiano intorno ad un rapporto conflittuale fra un protagonista e un antagonista cioè un buono e un cattivo sono usciti nell'ultimo anno almeno due film strepitosi Cattivissimo Me e Megamind che sono due film eccezionali perché mettono in crisi questa idea della possibilità che funzioni narrativamente ancora un principio di mondo basato sulla contrapposizione fra buoni e cattivi quindi sì io sono abbastanza d'accordo con quello che diceva il collega Collide Lupi cioè l'animazione in questo momento è avanti e tutto il resto anche se poi viene ingiustamente snobbata perché per qualche strano meccanismo se uno non è bambino non ha dei figli ritiene che questi film non valga la pena di andare a vederli e si sta perdendo delle cose di primissima qualità l'anno scorso Toy Story 3 è in assoluto il più grande film uscito dall'industria americana anche perché tra l'altro sono film quelli di animazione dove il rapporto con la morte per esempio è giocato nella maniera più intelligente assoluta cioè quella straordinaria sequenza in cui i giocattoli si vedono ormai perduti perché sono nella discarica e stanno per essere fusi e si rendono per un attimo conto che non c'è più nulla da fare a quel punto si guardano negli occhi si prendono la mano e stanno per andare a morire poi a un certo punto ovviamente un colpo di scena li salva però io non l'avevo mai visto francamente in un film di animazione una cosa così quasi alla John Ford cioè virilmente si prendono per una e dicono non c'è più nulla da fare andiamo quindi no no è veramente un cinema molto complesso e si va visto assolutamente anche se non si hanno figli come abbiamo noi sì sì io tutte le volte che vado a vedere sono uno dei pochissimi spettatori senza bambini che vede questi film no perché molta gente li snoba perché pensa che siano come dire supplizi inflitti agli adulti per far piacere ai bambini ma questa era vera dell'animazione fino a dieci anni fa da quando è arrivata la Pixar è cambiato tutto infatti mia figlia di sei anni e mezzo che andrebbe al cinema anche un po' di meno me la trascino sono io che trascino lei va bene si sono fatte le sette io ringrazio molto Roy Menarini ringrazio a voi per l'attenzione grazie davvero e ci vediamo lunedì prossimo noi giusto? buon weekend